Presidente Calabrese, hai dovuto fare il pompiere in questi giorni per le tre sconfitte, per il morale della squadra, tu invece hai sempre creduto in questa squadra, sei convinto che farà la sua parte, l'ignitosa parte anche in un campionato così difficile e oggi è venuta dal campo la risposta a quello che pensi? Oggi abbiamo fatto ne più ne meno quello che abbiamo fatto nelle scorse partite, forse oggi abbiamo messo un po' di malizia in più, un po' di cattività in più, per la prima volta forse eravamo con la squadra titolare con nessuno mancante nell'organico e abbiamo messo il cuore per 97 minuti in campo, il risultato ci ha premato ma ci poteva premiare pure qualche partita fa. Adesso tutto è più facile, si lavora meglio, l'ambiente si sentirà risollevato, questi tre punti valgono tanto anche per tutto quello che c'è intorno al San Marco Calcio. Noi abbiamo sempre lavorato in maniera serena, difficilmente ci siamo fatti abbattere da qualche avversità, ne abbiamo subito durante gli anni, abbiamo subito queste tre sconfitte, però eravamo consci che avevamo una buona squadra, non siamo gli ultimi, non eravamo fenomeni prima, non eravamo pippe prima, non siamo fenomeni ora, siamo una buona squadra che farà la sua bella figura nel campionato di eccellenza e porteremo a casa sicuramente con i denti il 5 aprile la salvezza. Presidente, lei ha parlato di rosa non completa, ci sarà qualche ritocco all'organico se si presenta? Stiamo lavorando su questo, ci servono ancora un paio di elementi da inserire nell'organico, per ora andiamo avanti così e cerchiamo di arrivare il più lontano possibile, con l'organico completo poi vedremo cosa riusciamo a fare. Grazie a voi. Grazie a voi.